Siamo di fronte a una nuova guerra in un nuovo spazio geopolitico, che cosa ne pensi? Una guerra sicuramente la si può ipotizzare quando ci si interfaccia con delle nazioni che possiamo considerare avversari o addirittura nemiche. In questo caso però noi siamo andati a bussare alla porta degli americani, quindi la vera domanda da porci è più che una guerra stiamo rischiando semplicemente di aumentare quella che gli anglosassoni chiamano l'exposure, cioè quindi la nostra propensione, la nostra tendenza a risentire maggiormente dei rischi legati per esempio ad un blackout o semplicemente a delle direttive governative che sottendono alle operazioni di queste grandi compagnie private che potrebbero quindi andare a inficiare alla nostra sicurezza nazionale e all'operatività dei nostri sistemi telematici. Questa è la domanda da fare, perché la Meloni è andata giustamente a bussare alla porta a quelli che sono i grandi giganti di questa industria. Ora, la magna carta del 67 in termini di diritto internazionale spaziale e ancora prima la risoluzione dell'Assemblea Generale del 62 ha sempre individuato nello spazio un'estensione, nello spazio ovviamente quello extraplanetario, nello spazio extraplanetario un'estensione più del mare internazionale che non delle zone aeree. Deve essere una provincia di tutta l'umanità e questo è vero, l'articolo 1 e l'articolo 2 della magna carta dicono espressamente che non si deve nazionalizzare questo spazio, però la commercializzazione è proprio una delle questioni più importanti in questo momento e manchevole di un giusto inquadramento normativo internazionale sia consuetudinario che pattizio. E veniamo al punto, stiamo ricevendo comunque sia la sovranità di altri stati attraverso i privati. Che cosa succede quando Starlink, non dico smetta di funzionare, ma semplicemente riduca la sua operatività in base a quelle che sono delle direttive governative degli Stati Uniti d'America, come è successo nel caso ucraino. Noi sappiamo che in Ucraina gli attacchi russi hanno determinato l'interruzione dei servizi della compagnia californiana che si chiamava, se non erro, Viasat, penso fosse, no? Ecco, Viasat interrompe i servizi, subentra Starlink, Starlink ovviamente è estremamente più efficiente, non si basa su satelliti geostazionari, garantisce una copertura estremamente più capillare perché ci sono più satelliti che si muovono e soprattutto a minor latenza perché sono meno distanti dal terreno. Bene, hanno funzionato meravigliosamente, hanno garantito l'operatività, per esempio, dei droni, fin tanto che quei droni non si sono avvicinati, per esempio, alle confini della Crimea. Considerata ufficialmente una zona sanzionata in quanto occupata, ma a tutti gli effetti una zona sanzionata perché territorialmente occupata dai russi che sono avversari, ecco che i droni sono caduti a picco, perché lì la copertura Starlink non arrivava. Quindi questa è una domanda che dobbiamo farci, ci dobbiamo fidare degli americani, sono nostri alleati, noi da sempre, anzi dal 45, quindi diciamo da sempre in senso di storia repubblicana, operiamo sotto la loro cupola di vetro. Ma cosa succede quando i nostri interessi non collimano con quelli americani? E batate bene, gli americani qui sono la reale espressione di queste grandi compagnie e ci riguarda da vicino perché gli americani veramente sono in simbiosi con queste grandi compagnie. Io non voglio dilungarmi, ma l'Alphabet è alla base dell'intranet di tutte le agenzie di sicurezza americane, ha fatto i motori di ricerca della CIA, dell'NSA, InqTel è praticamente la massima proprietaria di Google Earth e quindi ci guarda sempre dall'altro. Amazon Web Service in questo momento è il web service provider più importante in Europa per tutti quanti i sistemi sanitari nazionali. Ecco, e una delle loro ultime basi, la sesta espansione, è proprio qui a Milano. Dobbiamo chiederci cosa succede quando ci rendiamo troppo dipendenti dai privati esterni al sistema nazionale italiano, al sistema paese italiano? Questa è la grande domanda, più che la guerra il rischio di un'eccessiva dipendenza da privati nominalmente alleati, ma che potrebbero tranquillamente sospendere i propri servizi e le proprie utilità sulla base di interessi di altri nostri alleati.